Rafforzare la crescita dell'internazionalizzazione delle aziende aretine. È con questo obiettivo che la Camera di Commercio ha predisposto un bando operativo dal 1 ottobre 2019 per sostenere la partecipazione delle imprese del territorio alle fiere internazionali. Si tratta di una previsione che ha un tetto massimo di 1000 euro di voucher che vengono messe a disposizione delle imprese che ovviamente si affacciano ai mercati esteri attraverso la partecipazione a fiere e manifestazioni internazionali, quelle previste appunto nel calendario ICE. Quindi un aiuto che può sollevare le imprese su costi che sono direttamente imputabili alla partecipazione. Le domande dovranno essere presentate via PEC entro il 31 dicembre 2019. Si partecipa al bando che abbiamo da ieri già pubblicato sul nostro sito e quindi su tutta la nostra comunicazione e ovviamente si dichiara a quale fiera ovviamente si partecipa e normalmente ovviamente poi facciamo una gradatoria in base anche alla data di arrivo della domanda. Nel primo semestre 2019 il valore delle esportazioni della provincia aretina è cresciuto di circa 775 milioni di euro più 23,2% rispetto all'anno precedente attestandosi così oltre i 4 miliardi di euro. La impresa aretina ha dimostrato negli ultimi anni una vitalità, una vocazione ai mercati internazionali straordinari. Basta ricordare che l'80% del PIL provinciale viene acquisito su mercati esteri e proprio per consolidare e sviluppare questa presenza in mercati esteri dinamici abbiamo pensato di rimettere in operatività questo bando. Crediamo che sia un aiuto concreto, ancorché di non enorme entità ma uno stimolo per l'impresa affinché guardi con attenzione a mercati nel mondo che sono ancora espansivi. La fiera è ancora uno strumento di vendita, di promozione del proprio prodotto quindi abbiamo pensato in questa fase in cui il mercato interno è fiacco ma mercati esteri sono abbastanza dinamici di consentire alle imprese di avere un segnale, uno stimolo in più per essere presenti alle fiere in questi mercati.